Giornata della legalità presso il Teatro Auditorium di Saviano. Al convegno sono intervenuti autorità politiche e militari, tra cui il dottor Carmine Sommese, sindaco di Saviano, il consigliere della città metropolitana di Napoli, Francesco Iovino, il maggiore Michele Capurso, comandante dei Carabinieri della Compagnia di Nola, il maresciallo Femiano, comandante della stazione Carabinieri di Saviano, Salvatore Ambrosino e Aniello Iovino, rispettivamente comandante e vicecomandante della polizia locale di Saviano. Presente all'incontro i ragazzi delle scuole del territorio, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Antonio Ciccone e del professionale e liceo scientifico di Saviano. A rispondere alle domande e alle curiosità dei ragazzi, due personalità di rilievo del parorama giuridico italiano, i magistrati Silverio Tafuro, presidente della Corte d'Assise presso il Tribunale di Arezzo e il senatore Giacomo Caliendo, già sottosegretario alla giustizia e membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Ospite questa mattina con i ragazzi delle scuole del territorio il senatore Giacomo Caliendo, già membro del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, e sottosegretario al Ministero di Grazie e Giustizia. Allora, senatore, cos'è per lei la legalità? La legalità è più e nemmeno il rispetto delle leggi per quanto riguarda i cittadini e dall'altro che le leggi siano fatte bene, perché altrimenti se non c'è una possibilità per il cittadino di comprendere i propri diritti e dovere, di capire che esistono poi delle regole, anche non accompagnate dalla norma penale, che vanno rispettate per garantire una società migliore che si basa su due principi fondamentali, uguali diritti ma reciproci doveri. Ecco ragazzi interessati, attenti, questa mattina hanno ascoltato tutta la conferenza del religioso silenzio, si è battuto molto su un principio fondamentale, la simbiosi tra moralità e legalità. Cosa ne prendi a proposito? Non c'è dubbio, guardi, la legge non può essere, non ne dobbiamo confondere, un moralismo con la morale che è più e nemmeno i valori fondamentali di una determinata società. E la legge penale, come quella civile, è espressione di quelli che sono i valori di quella società contemporanea. Ovviamente proprio per questa ragione poi passano gli anni e a volte le leggi diventano delle sue ente perché non più corrispondenti a quei valori della società. Ecco, lei è un'eccellenza del territorio savianese, una personalità di rilevo nazionale, un pensiero sulla sua Saviano, un ricordo suo di infanzia, un pensiero suo? Non c'è più, perché quella saviana viveva, come l'ho detto durante il dibattito, eravamo, tenga conto, 400 iscritti soltanto in una delle parrocchie della Nazione Cattolica e il dibattito, io avevo nove anni, ma partecipavo ad ascoltare quelli che avevano già 20, vi era questa possibilità di formarsi non solo sui libri, ma anche nel confronto quotidiano. Abbiamo con noi il giudice Tafuro. Giudice, una mattinata molto intensa, ragazzi interessati, attenti, hanno ascoltato tutta la conferenza religiosa e silenzio. Sul tema della legalità, cosa è per lei la legalità? Io sono cresciuto nella cultura della legalità. Volevo un passaggio che non ho affrontato quando ho deciso di diventare magistrato. È di Saviano, un cugino di mio padre, Giacomo, Caracciolo, vivente peraltro del 23, quando arrivava a casa le persone si alzavano ancora in piedi dicendo il Presidente, arriva il Presidente. La legalità è questo, sono piccoli episodi di vita che devono aiutarci a vivere nella cultura della legalità tutti i giorni. Però torno sul problema che ho detto prima, cioè i ragazzi la devono vivere questa legalità in progetti è la scuola che è importante. Ecco perché ho detto al Sindaco istituire un premio della legalità che è cosa diversa dai premi che lui ha, coinvolgendo le scuole elementari, medie e superiori fin da settembre su questa legalità. Solo investendo sui giovani Saviano può cambiare, può essere e può ritornare ad essere il paese della legalità. Non dimentichiamo che Saviano ha avuto anche fino a 12 magistrati ed è un piacere per me continuare questa professione in questo paese grazie a loro. Il rapporto con Saviano, lei possiamo dire che è una personalità di spicco del panorama nazionale, un vanto del nostro paese? Io penso di essere ancora l'unico magistrato in servizio in questo momento a Saviano. Mi auguro che come io ho seguito l'immagine di Giacomo, l'esempio di Giacomo, peraltro abitiamo le nostre case paterne, sono ubicate a brevissima distanza l'uno dall'altro. Mi auguro che il nostro esempio sia seguito. Certamente mi rimproverò di aver lasciato questo paese. Torno in famiglia, torno da mia sorella, da mio cognato, però indubbiamente abbiamo fatto poco. Quando eravamo giovani ci siamo spesi. Purtroppo siamo andati via e per me queste sono occasioni importanti per crescere con i giovani e per far capire a loro come noi viviamo tutti i giorni questa nostra professione. Lei ha mandato alle nuove generazioni, ai ragazzi, un messaggio con una frase di Cicerone. Nulla è impossibile a chi sogna. Certo, quella è una cosa bellissima che io continuo a scrivere nelle mie agende ogni anno. Nil magnum somnianti. Cioè, niente è impossibile per coloro che vogliono. E quindi in questo devono credere i giovani. I giovani devono sostanzialmente credere nelle loro capacità, riappropriarsi della propria storia per dare un senso alla propria vita. Solo così si vive legalità e moralità.